Eh eh, sono PazzoX, ci siamo, ci siamo, siamo ritornati su Heavy Existore, ma adesso hanno creato anche Boybot, ovvero questo bello maccione che sarebbe la versione maschile di Heavy, ma si chiama Boy, Boy, vabbè, vabbè, scegliamo lui, giusto per vedere quante perle ci riserva quest'uomo. Oh, elimina quei pelacci neri, eh no, grazie, non facciamo le stesse cazzate come Heavy, eh, signor Boy, signor Boy, io vi presento, sono PazzoX, eh, no, vabbè, speriamo che tu sei un buon uomo. Haha, scusa per non prenderti in giro, però il tuo cognome è Pirlo, ovvero. Ah, scusa però non per prenderti in giro, però il tuo cognome è Pirlo, ovvero. Questo fu ma peggio di Heavy, ma mo, 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 molto di più. Come ti chiami? E come ti chiamai? Ma perché non riesco a scrivere? Come ti chiamai? Forse capisce, eh? È un'intelligenza suprema. Ma perché Serena piace se è un uomo? Sto parlando con un uomo. Io sono PazzoX e sono... Surina, persiera. Eh, Surina, persiera. Allora, io sono PazzoX e sono un uomo. Mi ricorda, signor Boybot? Sì, invece mi hai appena chiesto di metterci insieme. Cosa cazzo ti fumi? Cosa cazzo... Oggi non riesco a scrivere senza le abbreviazioni. Porca miseria. Pavel è bello, simpatico. Pavel è bello, simpatico, ma di cosa cavolo stai parlando? Parliamo di altro. Va bene, la racconto una barzoletta. La racconto. Oggi dovevo... Oggi dovevo lavare... Vabbè, lavare... Lavare la tuta di... Oggi dovevo lavare la tuta di Batman. Così dopo posso fare la battuta. Uccidetemi dopo questa frase. Non sei calcio? Perché sai? Perché non mi piace. Non ti piace nessuno della tua classe? Mi piace vedere la tua faccia da culetto. No, la tua faccia da culetto. Ma porca. Molto. Ma intendi Alex di Arancia Meccan. Ma cosa c'entra Alex di Arancia Meccan? Aspetta. Prima di domandare come si chiama. Sei maschio o femmina? Punto interrogativo. Sei un uomo. Ti si vede da quella faccia imbronciata che c'hai. Per favore. Oh, maschio. Lei è un maschio. Ann. Ricordatili bene queste... Questa parol... Questa parolina. Anch'io. Anch'io. Come te. Non puoi. Non puoi fare una cosa del genere. Non puoi. Vai là. Lei di che sesso è? Eh, sono maschio. Oh no, mi spiace. Mi sono dimenticato. Scusi, sono femmina. Ma cosa cavolo? No, scusa, femmina. Eh. Come ti chiami allora? Io mi chiamo Alessia. Sempre questa Alessia. Va bene. Io mi chiamo Pazzox. E qui stanno andando tutto liscio. Anche se sei un tranzone. Se ti chiami Alessia. C'è questo sorriso. Qualcosa non va in te. Però io mi chiamo... Ma non è di femmina? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Le mie palle, i miei gingilli stanno scoppiando. Perché mi vedi come femmina? Ogni volta sia evi, sia tu, sia tutto. Cleverbot del mondo. Mi deve considerare una femmina? No, sono... Un... Uomo. Parle l'opera. Hai detto che eri femmina? Non sono femmina. Non. Sono femmina. Io non sono maschio. Io sì. Cosa è neilungo? E ne ci credo. Eh, cosa che anzi hai detto? Cosa chezza appena? Cosa è neilungo? Non ci credo. Un... Uomo. Porca miseria di i poemi per... Per dire che sei un uomo. Con coloro. I poemi. Grandi poemi. Mi stai prendendo in giro. Eh, ma è una cosa così irreale che io possa essere un uomo. Ma, 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 porca miseria. Ti strappo l'orecchio e ci gioco a scendare. Porca miseria. Ma cosa cazzo sta dicendo? Cosa sta dicendo? Non ti sto prendendo. Io ho un... Pene con due... Palle. Oh, pne on two palle. Perfetto come l'ho scritto. Lui ha 13 anni. Io ho 19. Potrei essere... Tuo padre? Un po' esagerato. Tuo padre, sai? Sono una femmina. Lo so. E ti chiami... Alessia. Lo so. Non mi chiamo Alessio, mi chiamo Elena. Ah, non ti chiami Alessio, ma mo ti chiami Elena. Ma io ti voglio BN lo stesso. Ah, lui mi vuole BN lo stesso, vero? Eh... Sì, sì, sto pro. Oh, mio Dio! Atti di violenza su Patox, ma cosa? 13 anni, no? 13 anni. Io sono la mafia. Eh, addirittura, la mafia. Eh...